ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi andiamo a parlare come circuito il circuito di navarra questa è la mappa del circuito si è carica però ok il circuito di navarra è un circuito automobilistico stradale permanente sito nei pezzi di los arcos nella regione spagnola della navarra tra cui deriva il nome la storia il circuito è stato inaugurato ufficialmente il 19 giugno 2010 i primi avvenimenti agonistici sono delle gare motociclistiche il 31 luglio nella sua prima stagione ospita una tappa del lato gp e una della super league formula il circuito la pista è lunga 3,993 km e ho ottenuto l'omologazione della fia t1 e grado 2 che consente test per vetture di formula 1 e gare di formula 2 e dalla fim livello b che consente di ospitare fino a gare della categoria superbike la struttura ospita anche un cartodromo da 731 metri e un'area destinata all'educazione stradale e questa storia circuito di navarra se il video vi è piaciuto vi lascia non mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao